ciao se hai deciso di chiederci un preventivo ti descrivo quello che succederà dopo che avrai compilato questo forma praticamente ci sentiremo a telefono una telefonata di dieci minuti per capire un pochettino le tue esigenze e ci sono i presupposti per andare avanti poi fisseremo un appuntamento qui nella nostra sala mostra dove ti farò l'intervista e approfondita di almeno un'ora e anche lì cercheremo di capire tutte le tue per le tue problematiche quello che è importante per te quello che è possibile realizzare e ti dirò se è possibile fare quello che chiede oppure no perché non vogliamo fare finestre a tutti i costi poi farò un'analisi dettagliata di tutto quello che è emerso nell'intervista ti darò i video e dei contenuti gratuiti che saranno a disposizione e ti preparerò una proposta dettagliata c'è una proposta tutto nero su bianco con la nostra triplice garanzia oltre alla proposta riceverai anche tre modalità di pagamento quindi potrai scegliere senza nessun tipo di problema il modo migliore che tu preferisci e se deciderai di darci fiducia riceverai appunto la nostra triplice garanzia di tutta la sua interezza la trovi dettagliata qui nell'articolo nero su bianco ne parliamo prima e non dopo riceverai il sopralluogo tecnico di cantiere durante il sopralluogo dovranno essere presenti tutti quelli che competono nella scelta quindi il tuo progettista se c'è qualcosa di elettrico l'elettricista il muratore tu stesso almeno nel primo colloquio perché bisogna mettere in chiave tutte le cose che girano attorno al mondo della finestra poi riceverai tutti i disegni tecnici la soluzione creata appositamente per te su misura l'assistenza in cantiere dei nostri tecnici e dei nostri installatori per tutta la durata dell'intervento la posa in opera eseguita a regola d'arte dagli stesse persone gli stessi tecnici che costruiscono le finestre sono gli stessi che verranno a installarle e l'hanno fatto per oltre 35.000 finestre più di 3.000 clienti a proposito di questo puoi leggere un sacco di recensioni sia in questa pagina sia andando su facebook su google e consiglio molto facebook perché c'è nome e cognome potrebbe esserci qualcuno che conosci o anche se non conosci potresti inviargli un messaggio e chiedergli come si è trovato quale pubblicità è migliore di uno che ha già provato il servizio e ti dice sì mi sono trovato bene o no non mi sono trovato bene in ultimo riceverà il controllo gratuito entro 24 mesi lavori finiti torneremo a vedere che sia tutto a posto e la nostra assistenza per sempre ora voglio dirti anche quello che non facciamo non facciamo preventivi online non diamo prezzi volanti così perché crediamo che non serva niente e quello che è importante è fare una consulenza e capire le tue reali necessità i tuoi bisogni e con un preventivo online è impossibile fare questo da ti darei solamente un prezzo e non è quello che vogliamo non è così che aiutiamo le persone non abbiamo interessi per un materiale specifico lavoriamo tutti i tipi di materiali con il quale si può fare gli infissi siamo specializzati in infissi ma le possiamo fare dal pvc fino all'acciaio inox e tutto quello che c'è nel mezzo quindi non siamo quelle aziende che magari ha solo pvc e ti vogliono dare pvc a tutti i costi o ha solo alluminio ti voglio dare alluminato dei costi sceglieremo insieme il materiale che più si addice a te e al tipo di intervento che devi fare alla tua casa e se non troviamo il prodotto che riteniamo giusto per fare il lavoro ti diciamo no questo lavoro non si può fare non facciamo finestre a tutti i costi infine non abbiamo prodotti da canteristica prodotti che definisco da palazionari non è questo il nostro mercato il nostro mercato è chi come te si fa la casa per sé non da affittare o non delle palazzine da 10 20 e 30 appartamenti che hanno bisogno di avere un prodotto molto economico per poterlo poi rivendere in ultimo non abbiamo rivenditori in tutta italia ci piace fare il lavoro curarlo personalmente fare anche il montaggio quindi se abiti molto lontano da cesena ed è un lavoro importante quindi una casa intera con tutti gli infissi le porte e tutto quello che ne compete se ne può parlare se devi sostituire poche finestre sarebbe anticonveniente per entrambi che consiglio di cercare un produttore o un rivenditore nella tua zona ma che metta in pratica tutte quelle cose che hai imparato sul nostro blog ora non ti resta che compilare la forma che trovi qui sotto e ti ricontatteremo nel giro di 24 ore ciao